Paypal è una piattaforma digitale che permette di pagare online i propri acquisti senza l'inserimento dei dati sensibili, numero carta di credito o coordinate bancarie. È sicuramente una delle più grandi innovazioni degli ultimi 20 anni, è stata creata nel 1998 e ha rivoluzionato il settore dei pagamenti online. Per pagare con Paypal basta utilizzare soltanto un indirizzo mail e la password o il proprio numero di cellulare ed il codice PIN, scampando così ogni paura di possibili clonazioni di carta. Paypal permette di acquistare in completa sicurezza grazie a una garanzia che tutela gli utenti nei casi in cui l'articolo non venga consegnato o arrivi rotto, in tal caso c'è un rimborso totale. Paypal offre anche una carta prepagata per fare acquisti in tutto il mondo che si ricarica tramite il conto Paypal o con bonifico contanti presso i punti l'automatica. Qualora si volesse collegare la propria carta di credito o una prepagata al conto Paypal, basta fare il login e cliccare sulla voce di menu portafoglio e poi collega una carta, poi seguire le istruzioni. La conferma della carta avverrà in seguito all'addebito di 1,50€ ed una semplice verifica. Il conto si ricarica facilmente dalla sezione portafoglio, proprio sotto il saldo Paypal si trova la voce trasferisci denaro. Cliccandoci verrà visualizzata l'opzione ricarica il tuo saldo e basterà indicare l'importo. I conti di Paypal sono disponibili sia per utenti privati che per le aziende. Per aprire un account basta collegarsi al sito di Paypal e cliccare sulla voce registrati in alto a destra. Selezionare il tipo di conto, personale o business e cliccare su continua. Si aprirà una seconda scheda che dovrà essere compilata con nome, cognome, indirizzo mail e password ed altri dati sensibili. Infine bisognerà accettare le condizioni d'uso, l'informativa sulla privacy e confermare di essere maggiorenne.